Cari amici lettori. È stato annunciato il vincitore della prima edizione del Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone, intitolato al grande giornalista scomparso nel 2017, molto legato in vita al mare e all'isola di Capraia, e dedicato alle opere di narrativa italiane e straniere pubblicate in Italia tra il 1 marzo 2021 e il 28 febbraio 2023, a tema mare, Isole e Navigazione. La vincitrice dell'anno 2023, è Nadia Terranova con il romanzo Trema la notte pubblicato dalla casa editrice in Audi. Il premio per le opere straniere pubblicate in Italia è stato assegnato al romanzo ultramarino della scrittrice Mariette Navarro, pubblicato dalla casa editrice, La nuova frontiera. La giuria ha anche assegnato un premio speciale all'opera incentrata sulla protezione ambientale. Le lacrime dei pesci non si vedono, dell'autore Massimiliano Scoriatti, pubblicato dalla casa editrice La nave di Teseo. Di seguito le trame dei libri. Trema la notte. C'è qualcosa di più forte del dolore, ed è l'abitudine. Lo sa bene l'undicenne Nicola, che passa ogni notte in cantina legato a un catafalco, e sogna di scappare da una madre vessatoria, la moglie del più grande produttore di bergamotto della Calabria. Dall'altra parte del mare, Barbara, arrivata in treno a Messina per assistere all'Aida, progetta, con tutta la ribellione dei suoi vent'anni, una fuga dal padre, che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro desideri di libertà saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra trema, e il mondo di Barbara e quello di Nicola si sbriciolano, letteralmente. Adesso che hanno perso tutto, entrambi rimpiangono la loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi indifesi tra le rovine, in mezzo agli altri superstiti, finché il destino non li fa incontrare, per pochi istanti, ma così violenti che resteranno indelebili. In un modo primordiale, precosciente, i due saranno uniti per sempre. Il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un'inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le macerie, un'esistenza magari sghemba, ma più somigliante all'idea di amore che hanno sempre immaginato. Perché mentre distrugge l'Apocalisse rivela, e ci mostra nudo, umanissimo, il nostro bisogno di vita che continua a pulsare, ostinatamente. Trama del libro ultramarino. Ci sono i vivi, i morti e quelli che vanno per mare. Tutto a inizio quando i marinai di un cargo in navigazione nell'Atlantico decidono, con l'inaspettato beneplacito della comandante, di concedersi un momento clandestino di libertà, un bagno in mare aperto. Da questa nuotata nasce una strana sensazione di vertigine che cambierà le sorti del viaggio. L'equipaggio, un coro di voci e di volti, e la comandante, che non sembra mai esitare né perdere il controllo, condividono un improvviso disorientamento che impedisce loro di riprendere la rotta. Una misteriosa bruma avvolge la nave e una semplice traversata assume i contorni di un'avventura piena di stranezze ed imprevisti, dopo il bagno è salito sulla nave qualcuno che prima non c'era. La nave sta rivendicando la sua indipendenza? Mariette Navarro ci accompagna in un viaggio oceanico dove una pericolosa crepa si insinua nell'ordine delle cose e il soprannaturale irrompe nella routine. Che cosa stai combinando? Di cosa hai paura, animale nave? Cosa stai cercando di dirti? Cosa stai cercando di mostrarti? È questa bruma a frenare il tuo slancio? È stato quando abbiamo spento i motori, poco fa, che hai conquistato la tua indipendenza. Animale nave, spero non si tratti di una malattia, o di una resa nel bel mezzo dell'oceano. O di un peso come quello che provo io. Trama del libro Le lacrime dei pesci non si vedono. Vittorio, voce narrante e protagonista, rievoca la sua vita e il suo passato da pescatore, a partire dal giorno in cui, nel paese dove è nato, un misterioso fenomeno, avrebbe posto fine alla notte. Ciò che al momento appare come un ammaliante sortileggio, ben presto si rivelerà in tutta la sua reale crudezza, è il 1949, l'inizio, per quei luoghi, di un'era industriale che in breve avrebbe mutato la vita di una comunità da secoli dedita alla pesca, all'agricoltura e al sale. Vittorio tenta di resistere alla metamorfosi del suo piccolo universo, intuendo che il benessere economico di quei primi anni avrebbe un giorno lasciato il posto a un ambiente sempre più contaminato e a un sempre più alto numero di vittime. Un'immensa distesa di pesci agonizzanti, a ricoprire l'intera baia e dovuta allo sversamento di sostanze tossiche, per il giovane pescatore sarà l'innesco per intraprendere un piccaresco viaggio, alla ricerca dello straniero che ritiene responsabile di quel disastro ecologico. Fra finzione in realtà, Le lacrime dei pesci non si vedono è un romanzo avventuroso, una storia familiare ricca di colpi di scena e di rimandi al mito e alla storia. Vicende immaginarie, che rinviano a fatti veri dell'intera storia siciliana, quale nodo centrale per comprendere scelte politiche che hanno determinato il percorso spesso drammatico dell'isola, come dell'intera nazione. Il libro è stanto il vincitore del premio Le pagine della Terra nell'anno 2022. Grazie per l'attenzione. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.